Osteen Dey che è entrato assieme anche a Leonardo, Totè è qui Dey, prova ad attaccare dietro la testa, che lavorosa per Leo Totè! Abdurrahman ritmo selvaggio alla vizio in Fulgarena, Dey falleggia, arresto di resecuzione pulitissima di Osteen Power. Rappone gioca due con Dey, poi ribalta il lato per Delfino, arriva Dey a bloccare il cambio della difesa, Delfino vuole attaccare Sedolini, pallone in post per Dey che vuole svitarsi, si butta indietro, tiro difficile! Cinque all'intervallo, Dampone va da Dey che prende posizione sempre in quel post medio contro Fioi, gli può tirare in testa, chi tira in testa? Buonanotte! Grazie a tutti!